La prima serata della Giugno Insieme è dedicata all'Avis. Sì, sì, infatti. E quanti siete in questo stand? Adesso siamo in 4 o 5 perché domani arrivano i giovani e così siamo poi in tanti, cioè siamo tutti volontari. Anche tu sei un volontario? Sì, oltre a volontario sono anche donatore, tengo a precisarlo. E qui faccio presente che la serata con Salvatore Raniere, cantata della solidarietà, è offerta da noi dell'Avis. Mentre domani abbiamo la nostra iniziativa, mi auguro che sia apprezzata e soprattutto che il tempo ci sia clemente, che distribuiremo il pane, tre panini a testa, in occasione della crisi. Noi abbiamo scogitato questo stampo a gemma così per risultare simpatici e ben accolti dalla popolazione. All'alte 10 e mezzo. Domani alle 10 e mezzo diamo un sacchetto di pane a tutti. Come vanno le donazioni del sangue qui in Ossola? No, vanno bene. Sì, sì, siamo sempre in aumento. Per fortuna.